La migliore app per notizie e risultati sul calcio in tempo reale? OneFootball Link in descrizione Insieme al sito di crediti più economico, affidabile Ma soprattutto con la consegna automatica che potete trovare Protagi i tuoi occhi dalla luce blu degli schermi NoWave Link in descrizione Buona visione Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Oggi siamo con questo nuovo episodio della Cranatore Con questa Roma, pazzescamente incredibile ragazzi Nello scorso episodio abbiamo passato il turno Contro Barcellona in Champions League ragazzi E andiamo a vedere un po' quindi chi ci tocca Visto che non l'abbiamo visto Nello scorso episodio chi ci tocca ai quarti di finale Oggi giocheremo contro il Sassuolo ragazzi Giocheremo contro l'Atalanta nel ritorno di Coppa Italia Andata vinta 3-0 E giocheremo contro il Bologna ragazzi Nell'episodio dopo avremo il Bayern Leverkusen in Champions League Quindi questa è la squadra che dovremo affrontare ai quarti di finale Vi avevo chiesto nell'ultimo episodio ragazzi Qualche possibile formazione nuova da poter provare E ho visto che in tanti mi avete consigliato il 3-4-1-2 Quello che abbiamo provato anche all'inizio Perché? Perché abbiamo un Angolan che può stare più vicino alla porta ragazzi Quindi proviamo a sistemare un secondo la formazione Vediamo cosa viene fuori Ed ecco qui questa sarebbe la formazione tipo diciamo Che potrebbe accompagnarci da qui fino alla fine Salviamo le nostre modifiche E chiaramente adesso andiamo a sistemare anche la formazione Prima della gara Perché comunque ci sono tanti giocatori stanchi Tanti giocatori reduci dalla trasferta a Palermo Che appunto sono stanchi come ho già sottolineato e già detto Quindi Roma Sassuolo ragazzi Sistemiamo velocemente la formazione Ed eccoci qua Salah Pierotti ragazzi Pierotti che ultimamente è molto in forma Quindi diamogli spazio Diamogli possibilità di giocare Di far vedere tutto il suo potenziale E la sua bravura ragazzi Mi raccomando mi piace 2.000 mi piace Domani prossimo episodio E andiamo a giocare questa partita Tutto pronto signori Dobbiamo maximare tanti 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 punti in campionato Abbiamo la miglior difesa del campionato Nonostante sia una difesa 3 Comunque dobbiamo fare tanti punti ragazzi Perché abbiamo un treno molto stretto Dalla seconda alla quinta posizione Noi chiaramente vogliamo capitare tra il secondo e il terzo posto Per qualificarci in nuovo in Champions League Non c'è Totti ragazzi in Angolan Quindi capitano ragazzi Concentrati E cerchiamo di andare a portarci a casa il risultato C'è Nangolan dall'altra parte Viene servito benissimo Nangolan attenzione Potremmo andare a tirare Entra dentro l'area Ci prova col destro subito così Mamma mia che parata Veramente pazzesca Qui pensavo veramente di andare sul sicuro e fare gol Porca miseria Occhio a Berardi di là E Mancino lo ricordo Uh tenta un mezzo pallonetto Non so cosa fosse Non so come chiamarlo Comunque il pallone è nostro Isharawi Buono lo scambio con Chessy Isharawi attenzione Prova a partire Quasi Ho recuperato il pallone Attenzione Nangolan Buoni gli scambi No Cos'è successo No Andavo in porta Però non si può così Ho capito che si è fatto male E mi dispiace Però noi stavamo andando in porti Quello spazio Dai Pallone che ci viene ridato Dai giocatori del Sassuolo Mamma mia che si ragazzi Raja Attenzione Col Mancino sta volta centrale Può cercare De Rossi Lo trova De Rossi De Rossi dentro l'area Attenzione La può mettere dentro Arriva qualcuno No che parata che ha fatto Ma che cavolo Di parata che ha fatto Perché noi non ce le fanno Ste parate Madò Florenzi Il cross in mezzo Attenzione Lo stacco Il pallone ancora lì Vediamo lo stacco di nuovo Staccato dentro l'area Però Isharawi Attenzione Ma che culo Per fortuna Recuperiamo questo pallone Però Occhio le giocate qui Buonissime Missiroli Larga per Berardi Berardi che è mancino Lo ricordiamo Teniamolo lì Occhio Ho detto Teniamolo lì Porca miseria Ok Recuperato E riusciamo a palla al piede Forse De Rossi Nengolan Salà Attenzione Per Perotti Perotti Non è il giocatore più veloce Che abbiamo Ma non è un problema Temporeggia Perotti Eccolo lì Nengolan Attenzione Nengolan Sale il compagno No Era bellissimo Era bellissimo Attenzione Il pallone è ancora lì però Però Ti se la sposta sul mancino Ci prova È lì il pallone Attenzione Sarà All'indietro De Rossi Non ho parole Veramente Cioè Qui ho detto Cazzo la mette dentro Porca miseria Ma dai Che sì Attenzione che sì Qui per Nengolan Nengolan Qui per il compagno Ma perché Non entra E dai Cioè Ho detto La passo così Sono sicuro Che entra Manco quella E dai Prendiamo gol Adesso Spacco il pad Calcio d'angolo Non ci credo Madonna Attenzione Calcio d'angolo Non abbiamo il tempo Di ripartire Sicuro Quindi stiamo tutti In difesa Quando lo stacco lì È lì il pallone Donna mia Perché Doviamo soffrire così All'ultimo secondo Dai Un champagne dal piede Finisce la partita Lo sapevo Madonna Ci siamo mangiati Due gol grandi Come una casa Ragazzi Veramente assurdo Otto tiri Quattro in porta Ma manco uno Che entra Visto che voglio Provarli un po' tutti Però ragazzi 3-4-1-2 Adesso Voglio provare anche questo Nengolan Salah Florenza Scalago Tiago Raibio Perfetto Ok Salviamo Voglio provare questa formazione Qui ragazzi Voglio provare il 3-4-2-1 Come era all'inizio del campionato Molto offensiva Molto spregiudicata Copriamo un po' con in difesa Quello è vero Ma abbiamo la miglior difesa del campionato E un motivo ci sarà A prescindere un po' dal modulo Diciamo E quindi cerchiamo di Fare più gol Che è quello che adesso ci manca Quindi cercare di segnare Molto di più Offerta per allenare La nazionale Nelle camera Non ci interessa La Turchia l'ha ritirata Non ce ne avrebbe un cazzo Rifacciamo i nostri allenamenti Giovane vuole andare via Stefano Gallo Riuscire a andare via Nella squadra Ok Stefano Gallo Allora adesso lo chiamiamo ragazzi Non vogliamo perderci Nessun giovane Soprattutto quei 2-3 giovani Che abbiamo visto Che erano veramente Veramente buoni Quindi abbiamo detto Che se ne vuole andare via Stefano Gallo 77-91 Lui lo ingaggiamo In prima squadra ragazzi Ne offriamo un contratto 500 euro Futuro componente Sì dai Futuro componente 3 anni Ok Proviamo a finire questo contratto Vediamo cosa dice E poi man mano Che si lamentano Tra virgolette Gli offriamo appunto Il contratto Che vorrebbero Ecco Contratto accettato Perfetto Non ve lo rimostrano Il mio valore Bla 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 Reso conto della primavera Vediamo un po' Cos'è cambiato Marco Greco Anche lui A quasi ora Della prima squadra Ragazzi Questi invece Li lascerei qui Addirittura Lui lo cederei anche Questo lo teniamo Ancora un po' Questo lo cederei Terrei solamente Quelli buoni 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 Lui è l'altro Francesco Romano Che tra un po' Sarà pronto per giocare Diciamo In prima squadra Se così possiamo dire Rifacciamo gli allenamenti Prima della prossima partita E Gallo si fa subito vedere Sale subito di valutazione Ragazzi 64 Come arriva Sopra a 70 È già pappabile Diciamo Per la prima squadra Comunque Avanziamo Coppa Italia Ritorno All'andata abbiamo vinto Per 3 a 0 Tranquillo Tranquillo Doppietta di Mbappé Se non sbaglio E gol di Perotti Comunque adesso Andiamo a giocare Contro Il Papur Di nuovo Facciamo del turnover Perché la partita No La partita dopo è contro il Bologna Ragazzi Quindi giochiamo con questa qui Con quella buona E poi facciamo il turnover dopo Vediamo se il 3-4-2-1 Funziona Come abbiamo detto Prima insomma Coppa Italia Ragazzi Per ora stiamo andando bene Sta andando tutto bene In Coppa Italia Sta andando tutto bene In Champions League In campionato Puntiamo al secondo Il terzo posto Per adesso Perché il Napoli Là è veramente Troppo distante Qui Tiago Inquadrato Ragazzi Dovrebbe essere una partita Sulla carta Non troppo difficile Visto anche comunque Che l'andata abbiamo vinto 3 a 0 Abbiamo cambiato formazione In realtà Quindi cerchiamo di stare concentrati Di stare attenti Ragazzi E come sempre Forza Roma Attenzione Guardateli come si creano gli spazi Rabiot Qui per sala Attenzione Dentro l'area Ma do Perché Come hai fatto a sbagliare Ho tirato forte Va bene Però Angolato Sul secondo palo Oltretutto Questo mi caccia Una mina centrale Altissima E no però Attenzione A Nainggolan Ci prova Con questo destro Mamma mia Nainggolan Signori Quella è la sua posizione Dove cazzo L'ha tirata Pazzescamente incredibile Qui Totti Nainggolan L'abbraccio Mamma mia Dove l'ha messa Qui non lo sa neanche Berisha Guardateli i palloni Arriva in Sharawi Di testa Nainggolan dice Vabbè la sistema Un attimo Prendo la mira Caccia questa bomba La ragazzi Pazzescamente incredibile Signori Raja Nainggolan Bravissimo 1-0 E andiamo avanti Per Rabiot Bella sta palla Rabiot Temporeggia Aspetta il compagno Lo trova in Totti Di nuovo Totti Traversa di Totti Mamma mia Per Totti Mai una gioia Ragazzi Per Totti Mai una gioia Punizione però Attenzione Porca miseria Veramente Incredibile Allora Se io faccio il tocco tiro No Se volessi cambiare Il Modifica Posizione iniziale Ma io in realtà Volevo che tirasse Adesso tiro con Totti Ragazzi Ho deciso Basta Attenzione Totti Wow Mamma mia Bellissima Avete visto Quanto è andata vicino Al palo Guardate un po' Qui ci prova Totti A fili Mamma mia Porca miseria Però bella Bella Dobbiamo provare più spesso Queste soluzioni Vengo là Attenzione Ok Totti Chiede il pallone Vai Francesco Vai Francesco Vai Francesco Dentro l'area Col mancino All'incrocio Tutti zitti Signori Tutti zitti Dopo le due traverse Dice e quindi E quindi Guardate lì La bomba all'incrocio Bello però L'inserimento Qui di Totti Ha cacciato una mina Che era imprendibile Là all'incrocio Finalmente Una gioia anche per Totti In questo episodio Ragazzi E l'episodio non è finito Quindi per adesso Andiamo avanti Finisce qui la partita Però ragazzi Abbiamo passato anche Questo turno Per un totale di 5 a 0 Tra andata e ritorno 11 tiri 5 in porta Buona partita Buona prestazione Totti Due traverse Però poi l'ha messa anche dentro Qui il tabellone ragazzi Non so se L'Inter e la Juve Abbiamo già giocato La partita di ritorno Se così fosse Dovremmo giocare La finale contro l'Inter Roma-Inter Finale di Coppa Italia Si è vista un sacco di volte Ma chi lo sa Potrebbe anche essere Roma-Juventus Lo scopriremo solamente Andando avanti Con questa carriera Pazzescamente incredibile Ragazzi Adesso tocca Al Bologna Quindi Allenare la Spagna No ragazzi Abbiamo detto che Non vogliamo un Bappé Ok Non vogliamo nazionali per adesso Un Bappé Andiamo a sistemargli Il contratto Visto che i sordi Li abbiamo Quindi Mbappé Dov'è? Eccolo qui Vorrebbe Vorrebbe 50.000 Guarda Per le prestazioni che fa 50.000 Sono anche pochi Ragazzi Va benissimo così Giocatore Importante No sporadico Per la prima squadra Proviamo a tenerlo sempre così Cerchiamo di tenere i ruoli Tra virgolette Bassi Così non ci rompono le scatole Andando avanti Signori Bologna Bologna Roma Giochiamo a Bologna Ovviamente Sistemiamo la formazione Ok ragazzi Super turnover Perché la prossima partita La giochiamo contro il Bayer Leverkusen Nell'andata dei quarti di finale Di Champions League Facciamo debuttare L'esterno sinistro Preso della primavera Ovvero Gallo Speriamo faccia bene Insomma Speriamo che non si spacchi Come è successo con Rossi Nella prima partita E andiamo a giocare contro il Bologna Cerchiamo di chiudere in bellezza Ragazzi Questo episodio qui Abbiamo vinto contro L'Atalanta Abbiamo pareggiato 0-0 Con il Sassuolo È stata una partita molto Tosta diciamo Oggi siamo qui a Bologna Stadio che è quello ragazzi Sono stato più di una volta a Bologna Ed è molto molto simile Napoli primo 68 punti Cazzo Siamo quarti ragazzi Con 54 punti Dobbiamo prendere il treno Delle seconde e delle terze Assolutamente Qui Cesni inquadrato Abbiamo cambiato 11-11esimi nella squadra Anzi in realtà 10 Perché abbiamo solamente Due difensori centrali Come riserve Non tre Però adesso stiamo concentrati ragazzi E giochiamo sta partita Attenzione Ha recuperato il pallone No Bruno Perez Poi lo perde subito Non facciamoci ingavagnare Qui dai giocatori del Bologna Per favore Bravissimo Che si recupera il pallone Desce e palla al piede Non la dà nessuno Però Bruno Perez È più veloce di lui Allora è meglio servirlo Bruno Perez Geco Accentrati Porca miseria Bruno Perez Avanza ancora Potrebbe andare a fare Un cross in mezzo Non lo fa Attenzione dall'altra parte Partito Gallo L'esterno nuovo Di cui parlavamo prima Ragazzi Il giovane della primavera Ma cazzo Tutti sui nostri giovani Mamma mia Cartellino giallo Qui per Verdi Anche lui giovane Del Bologna Simbione Verdi Addirittura penso Se non sbaglio Che giocava anche lui A Bologna Comunque calcio di punizione Mi sa che serviremo Proprio Gallo Che è lì Che l'aspetta Dall'altra parte C'è De Rossi De Rossi Se la sistema Fa partire un missile Che viene poi comunque Intercettato Però ti potremmo andare A fare un cross Fatto per il verso Esce il portier È lì il pallone Ci proviamo Madonna mia Che sì Attenzione Fazio Eh non possiamo Tirare con Fazio Che cazzo Che sì Ci prova col mancino Deviato di nuovo Vediamo se è calcio D'angolo Sì Di nuovo calcio D'angolo Un assedio Ragazzi Un assalto Alla porta Del Del Bologna Che sì Recupera il pallone Attenzione Mbappé Geko Possibile Perotti Lo fa Perotti Avanza Perotti Potrebbe andare a fare Un cross in mezzo Dov'è Geko C'è Mbappé Sul secondo palo Che palle Madonna Colpo di testa Palla fuori Ma è una gioia ragazzi Non vuole entrare oggi Geko nello spazio Che è il pallone Di nuovo Perotti Perotti Allarga dall'altra parte Dove c'è Gessi Gessi Dentro l'area Può fare il cross in mezzo Lo fa E non arriva niente da Geko Non arriva niente da Geko Recuperato di nuovo Attenzione De Rossi De Rossi Può far partire No Perché è deviato Ed è rimasto È arrivato sul tacco Di Perotti Tiene qui Creci Potrebbe andare a fare Il cross in mezzo Lo fa Perché rimane il pallone Madonna Cesni è uscito E poi questo ci uccide così Vabbè Poi è diventato tutto Il peggio del wrestling Dai Perotti Di nuovo lui Perotti Può andare a fare il cross in mezzo Deviato calcio ad angolo Siamo al novantesimo ragazzi È calcio ad angolo E qui O lo sfruttiamo bene Sì vabbè Un po' più in là No Egli il pallone Ti prego No Che palle Partita che probabilmente Al 99% Finirà qui Come è successo 0-0 Ragazzi È un periodo No Esistono i periodi No Speriamo di uscirne presto Però Champions League Ragazzi Il prossimo episodio Partirà con La Champions League Contratto rifiutato Da Mbappé Vorrei In quanto Non so Per un ruolo Più prestigioso Ok Mbappé Non c'è problema Gli dobbiamo offrire Un ruolo Più prestigioso Allora Qui abbiamo detto 50.000 Ok Poi Era giocatore Era sporadico E adesso Mettiamo per il turnover Proviamo così Comunque ragazzi Allora Dobbiamo partire Dalla Champions League Il prossimo episodio Questo è andato Un po' così Ma cerchiamo di Continuare Ad andare bene Insomma Nelle competizioni Nelle quest Andando bene Come la Champions Come la Coppa Italia Quelle fino alla fine Poi il campionato Puntiamo per adesso Al secondo Barra terzo posto In modo da qualificarci Di nuovo Per il prossimo anno Mi raccomando 2.000 mi piace Domani vi porto subito Il prossimo episodio Se siete nuovi Iscrivetevi al canale In descrizione Trovate tutte le mie info utile Instagram Seguitemi su Instagram Ragazzi Che lo social Che uso di più Trovate sempre Nello shop Delle mie Magliette personali Dei crediti L'app di OneFootball Per seguire ragazzi I risultati In diretta Appunto Che è gratuita Trovate comunque In descrizione Grazie al supporto Grazie di tutto Ragazzi Come sempre Ci vediamo Nel prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti